L'unico interprete, poi alla fine sono io, per cui interpreto vari personaggi. Ad esempio, un prete di Arezzo, ha detto, è la più grande opera letteraria dopo l'inferno di Nando. Una psicologa. Che bacia, Stanzo! Ragazzano! Eramo di Samoggià! Chissà quanto mi esbatto i coglioni di quello che dite voi. Ragazzano! 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 Sto prendendo Arezzo, quello che dite voi. E' un pedofilo! E' un pedofilo! E' un pedofilo! E' un pedofilo! Ragazzano, ragazzano, rappresenta proprio i tempi in cui sto in questo movimento e dei ragazzi, giovani come voi, hanno detto... Grazie! Io direi di sentire un appena... A quelli miei più da tutti i coglioni! Siamo d'accordo di pensare il volume e di sentire la prima traccia. Ma io! L'impero dei vivi... Ma io! ...il massimo del volume è un appena... Ma io! Ma io! Ma io! Ma io! Ma io! Sei italiano! Non sei creso a merda! Ma vai, c'è un po' di fatto!